Tutto si riduce nel peso delle singole persone. Giorgia Meloni che sceglie come testimonia al Toti, che in questo momento succede la Segre che dice guardate non siamo più nelle tribù preistoriche che seguiamo il capo. Ma allora, intanto a me fa anche tenerezza questa Giorgia Meloni che si può dire che con gli uomini non ha la mano felice, tende a sbagliarli e mi dispiace. Mi dispiace. Ma il tema era una cosa... Era 2018, sembra un altro mondo, no? Ci sta tutto, ci sta tutto. E la cosa che amareggia, credo, spero, tutte le cittadine e tutti i cittadini, è che in questo modo veramente ne usciamo tutti, umiliati, avviliti, sminuiti nelle nostre possibilità di federe. Io ero molto d'accordo con quello che diceva Augia, è una questione di dignità, è una questione di avere la contessa del proprio ruolo, che è una ruola importante. Francesco Storaci.